e allora amiche mie vedi allora adesso io li ho fatti così ok e poi ho messo un poco olio olio d'oliva e li vado a friggere questo è il risultato amiche mie questi sono panzarotti di patate vedete quante idee belle vi do la vostra franguzza queste sono ottimi eh di patate belle leggere mettete poco olio eh un poco non dovete coprirle tutte di olio mettete un pochino di olio sotto e le lasciamo cuocere perché non stanno così belle dorate vedete reggiriamo piano piano così ecco qua vedi che queste non si aprono eh è vero che fa un botto di fumo perché io comunque le ho volute friggere con un olio bello di oliva quello bello fresco nostro vedete che spettacolo guardate quindi adesso mi vado a togliere questa mescita è più grande non fa niente eccolo qua questo è riuscito bene e andiamo a mettere gli altri ok così via ecco qua